Prosciutto crudo DOP, meno 36%, pancetta, meno 47%, prosciutto cotto, meno 9%, coppa, meno 4%. Non sono numeri a caso, né tanto meno preoccupanti i crolli dei consumi. A diminuire infatti è il sodio contenuto nei salumi oggi in commercio rispetto ai valori riscontrati nel 1993, anno in cui furono pubblicati i risultati di un'analoga ricerca. A distanza dei 18 anni dall'ultima indagine eseguita, spiega Elisabetta Bernardi, nutrizionista e biologa, docente presso il corso di nutrizione all'Università di Bari, emerge che il miglioramento delle razioni alimentari fornite ai suini, caratterizzate da mangimi ricchi di fibra, che si traducono in alimento di ottima qualità per la salute dell'animale e per la produzione della carne, insieme a più innovativi processi di trasformazione, sono stati capaci di influire positivamente sulle qualità organolettiche dei salumi. Insieme al contenuto di sodio sono infatti diminuiti considerevolmente anche i valori dei grassi totali e dei nitrati. Nel Cotechino, dal 1993 ad oggi, i nitrati sono diminuiti del 96%. Parallelamente sono aumentati gli acidi grassi essenziali, i famosi omega 3 e omega 6, calcolati addirittura in una percentuale che in molti casi sfiora il 60%. Così, dopo la riduzione della percentuale di colesterolo presente nella carne di maiale, meno 30% rispetto a pochi decenni fa, con i dati diffusi in questi giorni, certi pregiudizi sembrano finalmente destinati a non trovare più fondamento, fugando, magari una volta per tutte, la convinzione che i salumi fanno male. I risultati ottenuti dalla ricerca condotta da INRAN e SSICA hanno evidenziato altri dati interessanti, come la presenza di zinco, ferro e vitamina B12, puntualizza la nutrizionista, parametro quest'ultimo che nella precedente ricerca del 1993 non era stato valutato. Ebbene, la Bresaola ha registrato il più alto contenuto di vitamina B12, con una percentuale pari al 15% della dose giornaliera raccomandata, così come nella coppa la percentuale riscontrata è stata del 14%. Nel prosciutto crudo dopo, infine, la presenza della vitamina B6 è pari al 43% della RDA.